Iniziamo con degli esercizi che coinvolgono due frazioni. Per fare questo calcolo dovremo calcolare il minimo comune multiplo tra i denominatori delle frazioni e questo sarà il denominatore della frazione risultato, tra 6 e 4 e 12. Adesso i valori a numeratore si calcolano dividendo il minimo comune multiplo per i denominatori delle frazioni e moltiplicando per i rispettivi numeratori. Quindi faremo 12 diviso 4 per 3 e 12 diviso 6 per 1. Allora avremo 9 più 2 a numeratore, con risultato 11. 11 dodicesimi è allora il risultato finale. Vediamo un esempio di sottrazione. Il procedimento sarà lo stesso. Fra 20 e 35 il minimo comune multiplo è 140. Con lo stesso procedimento di prima ricaviamo i termini a numeratore. Dividendo 140 per i denominatori delle frazioni e moltiplicando per i numeratori. Otteniamo 49 meno 8 con risultato 41. La frazione ottenuta non è semplificabile ed è il risultato finale. Vediamo adesso come eseguire rapidamente il calcolo tra un numero intero e una frazione. Per fare 5 più 3 decimi agiremo in questo modo. Il denominatore sarà 10 perché è l'unico fra questi due numeri. Teoricamente anche il 5 ha un denominatore, 1, ma possiamo trascurarlo perché il minimo comune multiplo tra un numero A e 1 è sempre A. Per quanto riguarda il numeratore faremo una semplice operazione. denominatore per il numero intero e al risultato aggiungeremo il numeratore della frazione. In questo caso 5 per 10 uguale 50 più 3 uguale 53. Questo è il risultato calcolato con semplicità. Vediamo un altro esempio. In questo caso abbiamo a che fare con i segni meno. Il denominatore del risultato sarà 4. Per il numeratore avremo 4 per meno 3, facciamo attenzione al segno, meno 7. 4 per meno 3 fa meno 12. Meno 7 uguale meno 19. Il segno meno possiamo assegnarlo alla frazione ottenendo il risultato finale. Vediamo alcuni esercizi con 3 o più frazioni. Procederemo sempre allo stesso modo, calcolando il minimo comune multiplo tra i denominatori e poi ricavando i termini per fare i calcoli al numeratore. Fra 3, 7 e 5 il minimo comune multiplo è 105. Dividendo questo valore per i denominatori delle frazioni e moltiplicando per il numeratore otteniamo 140 più 15 meno 42. Svolgendo i calcoli si ricava 113 fratto 105. Risultato finale del calcolo. Vediamo ora una piccola espressione con somme e sottrazioni. Iniziamo svolgendo 2 più un quarto, come abbiamo visto in precedenza. Il denominatore del risultato sarà 4, mentre a numeratore avremo il risultato di 4 per 2, 8, più 1, quindi avremo 9. Fra parentesi dovremo fare il minimo comune multiplo tra 5 e 2, 10, e poi svolgere i calcoli al numeratore, ottenendo 4 meno 15. Il risultato è meno 11 decimi. Ora possiamo togliere la parentesi cambiando il segno della frazione, a causa della presenza del meno. Ci resta da fare questa somma. Il denominatore del risultato sarà 20, minimo comune multiplo tra 4 e 10. A numeratore, col solito procedimento, otteniamo 45 più 22. Svolgendo questa somma si ottiene 67 ventesimi, risultato finale di questa breve espressione. Grazie per aver visto questo video. Se ti è stato utile, clicca mi piace, iscriviti e commenta se hai un dubbio riguardo a questa lezione. Ci vediamo alla prossima e buono studio!